Saluti dal North Carolina e dalla chiesa Cornerstone, sono privilegiato di essere qui, mi chiamo Daniel Gillespie e ho solo un dispiacere che non posso essere con voi in persona e Johnny mi ha promesso che prima o poi nel futuro riusciremo a fare questo. Vi prometto che sono molto più bello in persona che sul video, però spero che siete già contenti di questa conferenza e spero che avete goduto il messaggio di Rick e non vedo l'ora di passare questo tempo insieme. Preghiamo al Signore, all'inizio. Padre Celeste, che privilegio essere qui come tuo popolo, tutto intorno al mondo, per poter unirci. Sappiamo che questo è solo l'inizio di quello che sarà un giorno quando persone di ogni tribù, ogni nazione, si incontreranno insieme in perfetta armonia intorno al tuo trono. Signore, ti prego che possiamo godere stasera del sapore di sapere che siamo intorno alla tua parola insieme, che tu possa essere onorato e che noi possiamo essere trasformati per la tua gloria. Nel nome di Gesù, preghiamo. Amen. Se sei a questa conferenza, sono sicuro è perché tu ami Dio e perché tu ami la Sua parola e tu desideri che la Sua Chiesa cresca. Noi abbiamo avuto, negli ultimi dieci anni, delle discussioni su cosa significa far crescere la Chiesa. Ci sono libri, conferenze. Cosa significa per la Chiesa crescere? I metodi sono stati passati, comunicati, programmi, descrizioni di come dovremmo mettere la Chiesa, il parcheggio. Altri hanno detto no, i programmi non sono importanti, dobbiamo solo predicare la parola. C'è stata molta discussione sulla crescita della Chiesa ed è giusto pensare alla crescita della Chiesa di Cristo, del corpo di Cristo, perché ogni persona rappresenta un'anima, rappresenta qualcuno creato all'immagine di Dio. Quindi è giusto per noi riflettere su queste cose, ma è anche importante ricordarci che l'Avvocato, la persona più rappresentativa della crescita della Chiesa, è colui che ha cominciato tutto. Dio che ha portato in esistenza la Chiesa attraverso il suo Santo Spirito in Giudea, Samaria, Samaritani e anche Puffi, a tutte le persone. Dio ha il diritto di parlare su questo argomento di come deve crescere la Chiesa. Lui ha fatto crescere ogni giorno la Chiesa e non l'ha fatto tramite Google, non l'ha fatto tramite trucchi, ma tramite la sua potenza. Non soltanto ha fatto crescere la Chiesa, ma ci ha dato molto per iscritto di come deve crescere la Chiesa. Non c'è un testo che parla più direttamente, in modo più dinamico, riguardo alla crescita della Chiesa, della lettera che Paolo ha scritto agli Efesini. Quindi se avete le vostre Bibbie, e sono sicuro che le avete, aprite a Efesini capitolo 4. Efesini 4. Volevo farvi questa domanda su questo. Voi avete qua, dove abitiamo noi, si parla di pounding, è un'espressione nostra. Se qualcuno ha un trasloco o nasce un nuovo figlio, c'è l'opportunità di dare un regalo, di dare un dono. Quindi tu gli daresti forse un pound, una libra di farina, di zucchero. Quindi nella nostra cultura, se un uomo si sposa, gli portiamo un barattolo di VD40, lubrificante, poi un nastro adesivo, tutte le cose che possono riparare il suo matrimonio. Per i figli, per i bambini, quando nasce un nuovo bambino, qualcuno porta un pound di pannolini, di salviette e poi pallet proprio di caffeina. Il testo di stasera trova la Chiesa in una situazione simile. Vediamo una nuova Chiesa, un nuovo corpo, un nuovo edificio. Il Dio di tutta la bontà ci dà un pounding, ci dà un dono. Ma questi doni non saranno finiti in una settimana, ma questi doni dureranno per tutta l'età fino al suo ritorno. Quindi troveremo il nostro testo in Efesini 4, ma sapete che questa è una lettera e è difficile entrare direttamente nella lettera, ma pensiamo a quello che Paolo ha già detto in questa lettera. Al capitolo 1 ha parlato del fatto che è un piano perfetto di Dio prima della fondazione del mondo. Ha messo i suoi affetti su questo popolo. Nel capitolo 2 ha parlato delle sofferenze, di come noi eravamo morti, sia fisicamente, individualmente, ma insieme. Ma la morte di Cristo ha unito da questa separazione e siamo diventati vivi e siamo diventati un uomo nuovo. E questo è il mistero della Chiesa. Ma Paolo sa che quando le persone si uniscono sotto un solo tetto, che sia nel matrimonio o nel ministero, ci sono problemi. Non siamo ancora stati trasformati nella perfezione, non abbiamo ricevuto questi corpi glorificati, siamo ancora peccatori. E Paolo continua, nel capitolo 3, poi nel capitolo 4, del nostro bisogno di unità. Perché noi peccatori, vivendo insieme, quando siamo a stretto contatto, abbiamo una propensità verso la disunità. L'unità è importante, ha senso, perché abbiamo un solo corpo, una sola speranza, una sola fede e un solo Dio. Ma per fare questo richiede uno sforzo attivo da parte nostra, umiltà, gentilezza nel vedere il nostro peccato con tanta grazia, nell'esortarci, nel camminare l'uno con l'altro, incoraggiarci nell'unità nello Spirito, nell'unità della pace. Ma noi dobbiamo essere uniti. Questo è difficile. Paolo sa che è difficile. Lo Spirito Santo sa che è difficile. Che per questo ci ha dato un dono. Dio ci ha dato questo pound, ci ha questo dono, ci ha dato gli strumenti per far funzionare questo nuovo rapporto. Infatti il testo su cui ci concentreremo principalmente comincia dal versetto 7 e andrà fino al versetto 11. Il versetto 7 dice questo, che la grazia ci è stata data, perché senza la grazia l'unità è impossibile nella Chiesa. Se tutti dobbiamo essere unificati, se dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo adorare insieme con un solo corpo, non è naturale, quindi abbiamo bisogno di doni e riceviamo questo pounding. Se siamo stagionati nelle scritture, conosciamo le scritture, vediamo che la grazia è stata data a ciascuno secondo il dono di Cristo. Vi ricordate che in altre parti parla di doni dati agli uomini e alle donne nella Chiesa? Noi non parleremo di questi doni in mondo individuale, hanno cominciato, sono terminati. Parliamo ora di doni dati alla Chiesa come nella sua interezza, dei doni dati alla Chiesa per l'intero. Il versetto 7, infatti, dice che a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Questo dono è così profondo, così incredibile, così sovrannaturale, che è come il dono di Cristo, la sua morte, la sua risurrezione per noi. Quindi Paolo non parla dei nostri talenti, delle nostre capacità, ma sta parlando di dei doni dati alla Chiesa. E prima di fare questo, fa una cosa che è tipica dell'Apostolo Paolo, va in una tangente per descrivere questo Cristo che ha la potenza di dare questo dono. Quindi il versetto 8 lo descrive come colui che è salito in alto, ha portato con sedie prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Poi quando arriva al versetto 11 parla dei doni che sono dati alla Chiesa e vedremo in particolare due doni dati alla Chiesa. Numero uno, il dono del leader, della guida nella Chiesa. Guardate il versetto 11. Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, come pastori, dottori, perfezionalmente dei santi in vista dell'opera del mistero e l'edificazione del corpo di Cristo. Cosa ha dato? Apostoli, profeti, insegnanti, ha dato leadership, ha dato la guida. Guardiamo ognuno di questi in modo specifico. Apostoli. Quando è cominciata la Chiesa, Dio ha dato all'uomo la capacità di parlare da parte sua. L'autorità, l'ispirazione di parlare, così dice il Signore, di parlare il profeta. di una volta, parlava questo, diceva questo è vero, Dio ha dato a questi apostoli delle capacità di fare dei miracoli, dei segni, per convalidare, per affermare questi doni e questa autorità. E quindi i doni non erano da parte loro, loro non avevano ancora la parola per confermare. Dovevano veramente fidarsi che questa era veramente la parola di Dio. Quindi Dio ha dato gli apostoli alla Chiesa, nella sua fondazione. E poi gli evangelisti. Siamo tutti chiamati a evangelizzare, ma c'erano dei uomini che avevano questi doni in modo particolare per portare altri a Cristo. Dio ha dato questi uomini alla Chiesa. Evangelisti per la crescita della Chiesa. Terzo, dà dei pastori alla Chiesa per nutrire, per guidare, per fare il leader nella Chiesa. C'è da anche insegnanti. Basato sul greco qua, so che conoscete questa discussione, forse sicuramente avrete avuto questa discussione arrivando qua, forse incontrandovi, avete discusso questo fatto. L'assenza della congiunzione qua è una cosa grammaticale che è importante. Cosa significa questo? Quanti di voi, onestamente, quanti di voi avete parlato già di questo stasera? Forse vi sembrerà un po' pesante, un po' accademico, ma è solo una discussione di una cosa. Sta parlando di due gruppi o di un gruppo che è descritto qua? Abbiamo pastori insegnanti, una persona che è pastore e insegnante, o abbiamo due gruppi? Pastori e insegnanti. Io credo che parli probabilmente di due gruppi qua. Sicuramente ogni pastore ha l'abilità di insegnare, ma non tutti gli insegnanti sono chiamati ad essere anziani, di essere pastori. In ogni modo, questi doni sono dati alla Chiesa. È importante capire che forse abbiamo una reazione per chi vede le cose nella Chiesa. Un giovane diceva, il mio cuore è toccato da Dio, vorremmo incoraggiare questo uomo nel ministero di diventare pastore. E non è una cosa brutta, anzi. Ma dobbiamo anche capire che la chiamata di ogni uomo, di ogni donna, è di servire il Signore. Infatti questo testo condivide con noi che noi siamo tutti da essere servi del Vangelo. Una Chiesa sana ha bisogno di uomini che servono, di donne che servono. Ecco perché il dono, abbiamo parlato del dono, adesso qual è la meta della leadership nella Chiesa? Guardiamo il testo insieme. Versetto 12 dice che questi che sono stati dati, sono dati per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e l'edificazione del corpo di Cristo. Per l'opera del ministero. Qual è il ministero che dobbiamo fare come Chiesa? Dio ci ha dato questa chiamata. Quando noi siamo salvati, quando siamo nati di nuovo, non siamo immediatamente trasportati nella gloria con Dio. Ma rimaniamo qua in questo mondo corrotto, questo mondo decaduto, perché siamo chiamati per fare i discepoli. Come Rick ha già detto, siamo rimasti qua per proclamare Cristo. Dio ha messo l'uomo su questa terra per proclamare la sua gloria su tutta la terra, già dall'inizio. Adamo ed Eva, creati le immagini di Dio, in modo che la sua rappresentazione possa essere su tutta la terra. Ma dopo la caduta, non lo rappresentavamo più bene, la sua giustizia, il suo regno, la sua bontà, rovinati in noi. Ma in Cristo, quello che ogni Adamo, da Adamo fino a Cristo, non poteva fare, il perfetto Cristo, che ha onorato Dio, ha ubbidito a Dio, e in tutta perfezione, in Lui, noi abbiamo ristorato la nostra immagine, siamo conformati all'immagine di Cristo. Quindi le nostre luci sono più brillanti, le nostre immagini sono più simili, ma c'è ancora più bisogno di altre luci. Quindi andate e fate i discepoli, Matteo 28 dice. Dobbiamo fare discepoli fino alla fine di quest'età. E questo comandamento è per tutti nella Chiesa. Ogni persona deve fare discepoli. Considerate questo. Se tu vuoi fare discepoli, se vuoi fare discepoli a Roma, o in Europa, o in tutto il mondo, se noi vogliamo fare discepoli, non sarà fatto da una persona, o cinque persone, a un gruppo di persone, di uomini e di donne, in modo privato, sarà fatto quando tutto il popolo di Dio si muove. Considerate questo. Se io dovesse prendere un aereo e arrivare alla zona metropolitana di Roma e salutare ogni persona, parlare con ogni persona della zona di Roma, della zona metropolitana di Roma, se dovessi andare, se fossi molto bravo, se potessi in 60 secondi parlare con le persone, riusciremo a organizzarci per se io potessi salutare ogni persona, parlare con ogni persona, ci metterei nove anni e mezzo. Ma, se io salutassi quattro di voi e quattro di voi fosse disposti, dopo quel minuto con me, fossi disposti a parlare con altre quattro persone e prendere il mio saluto, il mio messaggio, se noi potessimo portare questo a altre quattro persone, lo sapete quanto ci metterebbero per raggiungere tutta Roma con il mio saluto? 36 minuti. 36 minuti. Vedete, Dio ci ha dato il comandamento di moltiplicarci. Siamo chiamati a portare il Vangelo, ognuno di noi, in modo che la gloria del Signore sia su tutta la terra come l'acqua copre il mare. Noi siamo chiamati a essere operatori, lavoratori, ognuno di noi, ognuno di voi. Quando tutta la Chiesa si impegna, il mondo viene messo sotto sopra. Un mondo pieno di discepolatori, di persone che la Chiesa deve addestrare per fare questo lavoro. Cosa significa perfezionare, equipaggiare, addestrare queste persone? La meta è di portare le persone ad essere discepoli e di essere discepoli da fuori, ma anche di maturare ogni lampada. Se guardiamo il testo, vedremo il versetto 13, dice, finché non otteniamo tutti l'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio allo stato di uomini fatti, maturi, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati portati qua e là da un evento di dottrina per la frode dei uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito dalle proprie ginture in modo che matura e cresce e risiedifica nell'amore. Dobbiamo crescere, maturità, abbiamo bisogno di maturità finché siamo completi in Cristo come ci ha detto Rick. Questa è la meta quando tu vedi che il tuo vicino ha bisogno di Cristo. Prima deve venire a Cristo, la prima meta con il tuo vicino è di invitarlo, di chiamarlo a Cristo. Poi quando una persona viene a Cristo dobbiamo aiutarle ad essere conformi e più come Lui le menti rinnovate e cominciamo a comportarci a vivere come Cristo. Oh, quanto è bello l'esempio sarà quando tutti noi assomigliassimo a Cristo. Quanto sarebbe più potente la nostra testimonianza se noi crescessimo più come Cristo. Ma spesso la Chiesa è ferma, c'è poca maturità o nessuna maturità e quindi la nostra testimonianza è danneggiata e la gloria di Cristo non è passata per tutto il mondo. Questa maturità ha diversi benefici ma Paolo dà due categorie per mostrarci questa crescita. Cosa sembra quando noi siamo maturi? Prima di tutto noi siamo fermi nella dottrina, siamo solidi nella dottrina radicati in modo che non siamo più come bambini bambini sballottati dalle onde di ogni dottrina ma che possiamo crescere parla di bambini come sballottati come una zattera su un mare in tempesta. Quando la cultura ridefinisce la verità noi ci sentiamo fermi quando non vogliono più parlare di un buon Dio ma la Chiesa rimane ferma quando ci sono tante false dottrine che affermano cosa è la Chiesa la Chiesa vera mostra la sua voce. Stephen Charnock parla nei suoi attributi su Dio che anche se non lo capiamo come lui è veramente non possiamo completamente capire che è Dio possiamo essere attenti di non pensare a quello che lui non è la Chiesa deve essere dottrinalmente ferma ci sono cose che dicono su Dio che non sono vere dobbiamo essere sicuri che le nostre chiese sono sane dottrinalmente che rifiutiamo cose che non sono vere del nostro Dio non dobbiamo essere sballottati dai venti dottrine di ogni moda che entra nella Chiesa quando la Chiesa dice Dio è puntini puntini la Chiesa invece afferma quella che è la verità ma notate notate come la Chiesa serve in un mondo pieno di bugie non lo fa con rabbia per vendetta ma con amore guardate il testo affinché non siate più come bambini portati qua da un evento di dottrina per la faria degli uomini ma parlate la verità dell'amore la Chiesa matura comunica con amore la Chiesa non guarda il mondo come cattivi i cattivi ma capisce che noi stessi siamo i cattivi noi stessi siamo solo peccatori perdonati quindi noi vediamo i nostri vicini come abbiamo qualcosa in comune una Chiesa che sana nella dottrina evita evita l'orgoglio il pregiudizio che viene dal dimenticare chi eravamo prima di Cristo vedete quando noi lasciamo andare la verità di Efesini 2 noi abbiamo l'arroganza che dice noi siamo diversi ma la verità è che l'unica distinzione tra noi e i nostri vicini l'unica distinzione tra noi e i più malvagi di tutto il mondo è che abbiamo la grazia di Dio la Chiesa sana sa questo afferma questo un seguace sano di Cristo sa questo in modo che la nostra testimonianza al mondo sia fissa e vera ma fatta con gentilezza e con grazia l'orgoglio ignora la verità l'uomo maturo invece l'abbraccia è la Chiesa che ci insegna questa verità è prima l'Evangelista che comunica che solo per grazia possiamo essere salvati ma sono i pastori e gli insegnanti che ce lo portano sempre davanti che ci ricordano ancora una volta la verità del Vangelo cosa significa quello che Cristo ha fatto per noi quello che sono i suoi insegnanti i suoi insegnamenti cioè che noi dobbiamo camminare in modo degno della chiamata in cui siamo stati chiamati sono i doni della Chiesa che portano avanti la meta della Chiesa che portano la maturità della Chiesa è la guida della Chiesa chiamata progettata per portare alla maturità la Chiesa o come Paolo ha detto in Colossesi 1 per presentare ogni uomo e ogni donna completo completa in Cristo sì noi entriamo nel mondo ma quella era la nostra casa qui non è che andiamo in territorio straniero sconosciuto è come se noi fossimo i criminali che sono stati liberati che tornano in quella zona dove erano i gangster dove erano i criminali possiamo capire chi è senza speranza chi è senza Cristo possiamo capire chi cerca di trovare la pace la speranza in un mondo in cui non trovano queste cose possiamo portare la verità e l'amore il secondo elemento della crescita oltre a essere fondati dottrinalmente saldi dottrinalmente e che possiamo crescere corporalmente dobbiamo anche crescere corporalmente non basta che parte della Chiesa cresca se solo una parte del corpo cresce e un'altra non cresce il corpo non funziona bene ogni parte deve crescere guardate il testo versetto 16 da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto di ogni gentura ognuno si sviluppa in ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore non è un incidente non è uno sbaglio che Dio abbia usato questa metafora per la Chiesa e chiamarla corpo non siamo individui isolati ma siamo membra di un unico corpo siamo parti di un corpo siamo parti necessarie di un corpo e se tu non sei attivamente a lavorare nella Chiesa dove Dio ha voluto che tu cresca le scritture parlano del corpo di Cristo come il posto dove noi dobbiamo crescere dove noi possiamo insieme da altri credenti perdonati peccatori perdonati camminare nella vita l'uno con l'altro è molto importante questa immagine così importante che viene ripetuto in tutte le scritture per parlare del corpo di Cristo siamo membra di questo corpo spesso parliamo di un canto per bambini dove ogni pezzo è collegato nel corpo nel ginocchio nella gamba al braccio e questa canzone dei bambini significa che ogni cosa è collegata all'altra e noi sappiamo per esperienza che se noi ci spariamo in un piede tutto il corpo soffre tutto il corpo pagherà per il dolore del piede noi siamo noi siamo parte di un corpo unico noi siamo membra del corpo di Cristo e fratelli amici se noi non siamo coscienti di questo Satana ci può ingannare di pensare che la nostra immaturità il nostro peccato non abbia un effetto sugli altri ma la realtà è che meno maturità abbiamo noi più difficile è per i nostri vicini di crescere più difficile è per i nostri vicini di maturare noi siamo stati creati per aiutarci l'un l'altro ci sono versetti dove dicono che noi siamo chiamati per unirci l'un l'altro come il ferro fornisce il ferro dobbiamo chiamare l'un l'altro il peccato ha bisogno che ognuno di noi l'affronti nella Chiesa spesso descriviamo il peccato la Chiesa come dice in Galati 6 in Matteo 18 parliamo di questo come di disciplina della Chiesa e tristemente questa non è l'immagine giusta perché non è disciplina della Chiesa ma è la crescita della Chiesa la potatura della Chiesa la disciplina deve avvenire sempre nella Chiesa dove noi vediamo il peccato l'uno nell'altro e siamo così vicini così affessionati l'uno nell'altro che noi possiamo affrontarlo con grazia con senso docile Dio ci ha progettato in modo che la Chiesa deve essere pura che la sua sposa può essere senza macchia e lo facciamo nell'unire tutta la Chiesa insieme la Chiesa unita quindi guardiamo i leader che sono lì per insegnarci per addestrarci ma guardiamo anche i fratelli che sono lì per portare i nostri pesi per sfidarci per incoraggiarci e considera questa la tua meta di essere come Cristo nota come finisce questo testo che ogni singola parte fa crescere edifica la Chiesa nell'amore che immagine della Chiesa se solo potessimo vedere la Chiesa come una Chiesa che cresce e che è forte e una Chiesa che ama che vive nell'amore che cresce nell'amore che tipo di Chiesa può comunicare al mondo una Chiesa che è piena di compassione e di amore amici abbiamo ancora molto lavoro da fare possiamo farlo possiamo farlo per la grazia di Dio con l'aiuto di Dio ma lo dobbiamo fare nel modo che Dio ha progettato e lo ha progettato per la Chiesa locale dobbiamo fidarci delle guide che Dio ci dà dobbiamo seguire Cristo per diventare più come Lui nella sua immagine parte del mistero di Cristo non soltanto che i giudei e i greci sono stati uniti insieme Paolo parla di questo capitolo 2 capitolo 3 che che lui innesta i gentili ebrei in un unico uomo questa entità favolosa questo corpo questa Chiesa ma non è soltanto il mistero che è avvenuto insieme così ma questo che peccatori di ogni tipo sono uniti insieme in modo da poter essere la sposa perfetta pura di Cristo noi siamo resi sempre più all'immagine di Cristo voglio fare una pausa per darti incoraggiamento conforto forse vedi livelli di immaturità che sono frustranti vedi la tua Chiesa vedi mamma mia qui cioè veramente ci sono cose che non stiamo facendo bene forse siamo come leader siamo dispiaciuti non sono stato come anziano l'esempio che avrei dovuto voluto essere tu puoi essere scoraggiato da queste cose ma ti voglio confortare con parole di un'altra lettere dell'Apostro Paolo scrivendo ai filippesi gli ha ricordato questa promessa che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento la completerà non è fantastico questo non è meraviglioso che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la completerà non ci sono dubbi non ci sono domande le promesse di Dio sono certe e non falliranno noi dobbiamo essere sempre più come Cristo è vero ma abbiamo la promessa che Dio opererà in noi per compiere questo oh che potessimo essere più come Cristo oh che potessimo riposarci nelle sue promesse che lui ci renderà come lui è importante per noi ricordarci che questo significa fare molta vita insieme molto molto essere insieme molto avere a che fare con il peccato le sofferenze le sfide Giacomo dice che che le prove sono è l'indirizzo più veloce per arrivare alla maturità ci dice che le prove sono una gioia ma possono essere una gioia se la nostra meta è di essere come Cristo e possiamo riposarci nelle promesse di Dio che lui ci renderà come Cristo preghiamo Padre Celeste la tua verità è incredibile difficile a volte da credere così per fede noi crediamo che le tue parole dette in passato si sono avverate le tue parole in passato si sono avverate come tu hai detto che si sarebbero avverate alcune delle più più promesse più fantastiche più difficili da credere si sono avverate e noi vogliamo aggrapparci alle stesse promesse che per onorarti noi vogliamo essere più come Cristo possiamo crescere e riposarci nel fatto che tu farai questo ti prego di usare questa conferenza per darci un nuovo vigore nella nostra ricerca nel nostro seguire te usa la tua parola le tue promesse per aiutarci ad essere più conformi al tuo figlio usa questo tempo per proclamare la tua gloria in modo più largo e più brillante di prima preghiamo tutto questo in nome di Gesù Amen grazie a tutti